Mentre continuano ad aumentare i vaccinati, anche se la Sicilia è l'ultima regione per somministrazioni, un'altra arma contro il covid sono gli anticorpi monoclonali. Sono una terapia precoce che consentono di fare un trattamento che garantisca in alcuni soggetti che hanno comorbidità e che abbiano un inizio dei sintomi non superiori a 10 giorni, garantisce una riduzione della carica virale, un'abbreviazione importante dell'evoluzione della storia naturale della malattia nel singolo soggetto. Tra gli ospedali siciliani il Canizzaro di Catania è quello che ha trattato più pazienti, 60 fino ad oggi. Come è noto l'ospedale Canizzaro sta procedendo a pieno ritmo con la somministrazione di anticorpi monoclonali. Autorizzata qualche mese fa dal Ministero della Salute, dopo l'ok dell'AIFA, la cura con gli anticorpi monoclonali serve per ridurre le possibilità per chi è covid positivo di sviluppare una forma grave dell'infezione. Un trattamento costoso e difficile da effettuare che però può salvare la vita.